Questo video riguarda i migliori 3 congelatori a pozzetto. Il vincitore della qualità nel nostro congelatore a pozzetto va a License FC 125d4. L'aria fredda viene immesa dal basso verso l'alto formando una spirale che abbraccia tutta la superficie interna del freezer. Questo garantisce una temperatura omogenea in ogni angolo e una congelazione più rapida, In caso di mancanza di corrente, il freezer mantiene la temperatura interna al disotto di 0 gradi fino a 135 ore. Grazie all'utilizzo di cerniere ultra piatte in metallo e dall'elevata resistenza, la durata nel tempo e l'efficienza di apertura è assicurata anche negli utilizzi più frequenti. La porte dei congelatori a License è facile da aprire e rimane aperta da sola se lasciata in un angolo compreso tra i 30 e i 60 gradi. Per la migliore organizzazione dello spazio interno è possibile spostare o rimuovere i cesti interni del freezer. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Ayer HCE 103F. I congelatori orizzontali Ayer offrono grande capacità di conservazione e raggiungono la classe energetica A+, che garantisce consumi ridotti. Inoltre, non sono efficienti solo dal punto di vista energetico, ma anche della gestione dello spazio e del tempo di conservazione. Il display elettronico permette un facile ed immediato controllo della temperatura grado per grado. Il tasto Fast Freeze permette di congelare nel minore tempo possibile alimenti freschi appena riposti nel congelatore. Grazie ai comodi cestelli in metallo, uno o due a seconda del modello, organizzare lo spazio del congelatore non è mai stato così semplice. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della Performance Premium nel congelatore a pozzetto è il CONFE 99L. Il congelatore a pozzetto CONFE è dotato del sistema di raffreddamento di più. Le tubazioni del circuito di raffreddamento hanno sezione a forma di D e circondano il vano interno migliorando significativamente le prestazioni di raffreddamento e l'efficienza del prodotto rispetto ai modelli tradizionali. Le esclusive cerniere della porta integrate riducono l'ingombro del prodotto del 10% senza ridurne la capacità. Il congelatore a pozzetto CONFE appare più sottile ed elegante rispetto ai modelli standard. Il termostato regolabile consente di controllare la temperatura da meno 12 a meno 24 in modo da poter conservare sempre i cibi congelati alla loro temperatura ottimale. Il congelatore a pozzetto può funzionare anche a temperature ambientali molto basse, in modo tale che è possibile posizionarlo in garage, scantinati o altri ambienti chiusi. La porta assistita può rimanere sollevata a diverse angolazioni comprese tra 45 gradi e 75 gradi. In questo modo si evita che possa ricadere chiudendosi, provocando lesioni o ferite e consente di utilizzare entrambe le mani per prelevare e riporre gli alimenti. Il congelatore è dotato di un compressore avanzato, che lo rende estremamente silenzioso ed efficiente, aiutandoti a risparmiare energia. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.